Azioni! Oddio! Calmati, calmati! Porca puttana, Mattè! Così mi prendi un colpo! Scusami, non vuole... Senti, io non ho tempo. Non seguirmi. Ma, non sapresti tu, eh? Che io non ho una dignità. Ti ho dato una cosa. Ti ho accolto nel mio studio, come se fossero di famiglia. Ti ho ridato la passione per la professione, e tu che cosa fai? Tu fuggi di rifiutare un caso per lo studio, e poi te lo prendi tu. Ma cosa pensavi? Non lo scopri io. Cosa devo pensare se sei una venduta? Senti, pensa a quello che ti pare, Mattè. Beh, no. Tu stavolta non ti capi così. Noi adesso stiamo qua. Noi stiamo fermi qua e parliamo. Per bene. Io voglio sapere, tu... Che cosa hai da dire a me? Cosa ne pensi del nostro futuro? Che ne sarà di me? Senti. Ma che cosa vuoi che ti dica? Sono in un momento delicato della mia vita, ok? E vengo da una relazione difficile, Matteo. Matteo, grazie. Grazie. Tu sei un amo meraviglioso, Matteo. Meriti di meglio. Ti prego. Ti prego. Ti prego. Ciao. Cos'è? Niente. Eh? Niente. Niente. No. Che cazzo è? No, no, no. Dove vai? Toppe. Toppe.